Dopo un'attesa durata anni è stato finalmente presentato a Re Calmuto il primo rapporto del registro tumori della provincia di Agrigento. Alla presenza dei vertici dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento e di Trapani, che congiuntamente gestiscono il registro, e diverse autorità, tra le quali il prefetto di Agrigento, Nicola Diomede, e il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Matteo Mangiocavallo, autore, insieme al gruppo parlamentare Lars, di svariati atti ispettivi per sollecitare l'attivazione dei registri nei liberi consorsi comunali di N ed Agrigento, unici in Sicilia fino a poco tempo fa ad esserne sprovvisti. Sono stati resi noti i dati elaborati relativi alla diagnosi e alla mortalità per tumori registrati nell'anno 2012, suddivisi per distretti sanitari. Con 124 casi, il distretto di Sciacca si colloca al terzo posto, dietro Canicati e Agrigento, per ciò che concerne la mortalità nei maschi, mentre per le donne i decessi sono stati 87 e il distretto di Sciacca è dietro soltanto ad Agrigento, con 144 casi. Dopo mesi di pressioni esercitate da associazioni cittadine e dal meet-up di Chiara Mangiocavallo, finalmente abbiamo visto qualcosa. I cittadini però non possono ritenersi soddisfatti dall'apprendere che la media provinciale di incidenza tumorale è inferiore a quella regionale, che a sua volta è inferiore a quella nazionale. La media continua, ironicamente, il deputato 5 Stelle è quella cosa che se c'è qualcuno che muore di fame e l'altro si mangia due mele, ambe due avranno mangiato una mela. I cittadini vogliono comprendere se i fattori ambientali, continua Matteo Mangiocavallo, risultino determinanti per lo sviluppo della patologia, a prescindere dal fatto che studi effettuati a livello regionale affermano che questi siano inferiori a quelli relativi alla singola predisposizione o meno dei soggetti che si sono ammalati. Per avere una risposta è necessario, conclude Matteo Mangiocavallo, avere un quadro a livello comunale. Il cittadino che nutre la percezione che i fattori di inquinamento dell'ambiente in cui vivano stiano contribuendo ad elevare la casistica dei tumori, ha bisogno di dati più circoscritti per essere rassicurato.